Dalla Lega qui in Sicilia per la prima volta ha un assessore, anche se tra mille polemiche. Cosa significa per la Lega questo passaggio? Significa che vuole imporsi ancora di più, sempre di più al Sud? Il Sud c'è fame di lavoro e di bellezza e quindi aver scelto in due regioni simbolo come la Sicilia e la Calabria. Come Lega per nostra scelta di occuparci di beni culturali, bellezza, archeologia, musei, biblioteche, significa che a differenza di quello che diceva qualcuno in passato, con la cultura si mangia, con la cultura si lavora. La riapertura dei musei appena finito il lockdown ha portato 40.000 visitatori a vedere le bellezze siciliane, quindi è una precisa scelta, anche perché non è solo assessorato alla cultura, ma è anche all'identità siciliana, nell'identità calabresa. Perché l'Italia è bella, però è il paese delle autonomie, dei campanili, dei santi patroni e quindi siamo orgogliosi come Lega di dare il nostro contributo alla bellezza ma soprattutto al lavoro, perché in Sicilia con le sovrintendenze e con lo splendore che c'è da gestire e da rilanciare si possono creare tanti posti di lavoro nuovi. Qualcuno oggi in Sicilia parlava di un gello con Musumeci? È uno dei governatori che sento più spesso, è persona stimata e stimabile, quindi sono contento del lavoro che sta e stiamo facendo.